Anche quest'anno per l'iniziativa nazionale Ottobre Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, l'ILT del Verbalno Cusio Ossola ha una forte collaborazione con il reparto di oncologia e con tutto lo staff guidato dal dottor Franchini che appunto come nel 2020 e negli anni precedenti hanno dato il massimo appoggio a questa campagna di screening e di prevenzione. Dottor Franchini è appunto primario della struttura e soprattutto colui che ha coordinato la parte legata alle visite che l'ILT offre a tutti coloro che vogliono inserirsi in un percorso di prevenzione e soprattutto di attenzione continua alla prevenzione. Il tumore a lamella sappiamo essere la neoplasia più incidente sia a livello nazionale con un po' più di 50.000 casi l'anno che a livello piemontese con circa 4.000 casi l'anno e anche a livello nostro, di questa azienda, quindi questo territorio, abbiamo circa 130-150 casi l'anno. È un tumore in cui l'incidenza continua ad aumentare, in particolare in una fascia d'età tra i 45 e i 49 anni, ma a questa incidenza fortunatamente corrisponde però una riduzione della mortalità. Noi saremo presenti su tutte e tre le sedi, quindi Domodossolo, Omenia e Verbagna, per fare appunto queste visite. Visite che, diciamo così, vivranno di due momenti. Un momento, effettivamente quello della visita e quindi della prevenzione secondaria, laddove eventualmente si va a cercare un reperto sospetto, in modo tale da poter sottoporre poi la paziente a un nuovo accertamento. Ma non si limiterà a quello, si limiterà, ci sarà anche una parte invece più di prevenzione primaria, di informazione, di tipo informativo, di educazione sanitaria, in modo tale che, diciamo così, ribadiremo un concetto molto importante, cioè quello di come sia fondamentale mantenere uno stile di vita adeguato, per stile di vita adeguato in sintesi si intende non fumare, limitare l'uso di alcolici, fare attività fisica almeno tre volte alla settimana e magari associare una dieta di tipo per esempio mediterraneo con molta frutta e verdura piuttosto che con pochi grassi animali.